Per il Nadalim alla sera si avrà il primo che si chiama preimpasto, è una prima parte di impasto che una volta impastato dovrà lievitare per 12 ore, quindi durante la notte, tutta la notte. Al mattino troveremo l'impasto bello pronto per rimpastarlo un'ulteriore volta, come vedete è abbastanza laboriosa. Al mattino poi, una volta impastato, anche quello si mette negli stampi si fa lievitare ancora per 5-6 ore e diciamo per le 5 e mezza, 6 e la sera dovrebbe essere pronto per andare in forno, quindi grosso modo per le 19 dovremmo finire il tutto.